Continua l'agitazione dei marittimi della carema raderente all'organizzazione sindacale Filt CGL Campania che ha proclamato l'astenzione del lavoro dopo la dodicesima ora per 30 giorni lavorativi a partire da oggi. Da questa sera dunque se non si riuscirà a trovare un accordo e la protesta verrà confermata per assicurare agli isolani di raggiungere Capri con l'ultima corsa verrà ripristinato l'orario estivo. Sulla linea verrà impiegata la motonave veloce isola di Capri mentre il resterà ferma la nave traghetto della Caremar che effettua la corsa delle 20.10. Da questa sera la partenza da calata di massa è stata fissata alle 21.35 con la motonave veloce e da Capri per Napoli alle ore 23. Sarà mantenuta invece la corsa delle 7.05 da Capri con la nave traghetto contrariamente a quanto precedentemente comunicato. Si aspetta intanto sull'isola che l'intervento dei sindaci possa sbloccare la situazione di stallo che si è venuta a creare. La protesta non riguarda solo l'isola di Capri ma anche Ischia e Procida dove sono state cancellate le corse delle 19.25 per Napoli in sostituzione della quale la partenza da Ischia alle 20.15 farà scalo a Procida e quella delle 19.25 da Napoli verso Ischia sempre con scalo a Procida.